Una passeggiata narrante tra le voci dei tetti rossi, quelli del manicomio di Arezzo. Era infatti il 29 giugno 1990, quando l'ospedale psichiatrico chiuse le sue porte, a 33 anni di distanza, un percorso all'interno di quei luoghi, nello stile Chile della Balanza, che da oltre 20 anni propone la passeggiata notturna tra i padiglioni dismessi di San Salvi, l'ex manicomio fiorentino. Pensiamo che con questa passeggiata, coinvolgendo i ragazzi che abitano normalmente questo luogo, e quindi parlando anche delle loro istanze, coniugandole con quello che è avvenuto qui, quindi è un percorso che lega memoria e attualità. La passeggiata rientra nelle iniziative di Viva il Pionta, nato con l'intento di valorizzare il parco e i suoi numerosi progetti di rigenerazione urbana, organizzate dal Comitato per la Rinascita del Pionta, a cui ha collaborato anche il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell'Università di Siena, sede di Arezzo. È importante cercare di ritessere un filo di comunicazione con i cittadini, perché questo è un parco molto popolato da studenti, dalla comunità universitaria, dai docenti, ma noi abbiamo bisogno di tutti i cittadini, abbiamo bisogno degli adulti, abbiamo bisogno degli anziani, dei bambini. Questo è un parco meraviglioso, è uno dei parchi più grandi della Toscana, è un parco storico, che ha delle ricchezze culturali e anche ambientali molto preziose ed è da qui quindi la volontà di agire da attrattori. Tra le iniziative anche la realizzazione di un murales dipinto dall'artista Rame 13 nella facciata della Biblioteca Umanistica dell'Ateneo. Rappresenta il futuro, le nuove generazioni, dedicato alla scienza, alla conoscenza, alla memoria, perché questo posto era un ex manicomio, alla natura e alle nuove generazioni, quindi è una spinta per cercare attraverso il sapere di creare un futuro migliore.